Ludovico Corrao è stato un sindaco ai tempi del terremoto del 68 ma anche di più. È stato un parlamentare ma anche qualche cosa di più. È stato l'anima dell'Orestia di Digibellina ma è andato oltre. È stato un visionario, un interprete della sua terra, uno con una visione lunga e sempre in anticipo sulle cose della vita. Con questa mostra, spiega il presidente della Fondazione, Cologero Pumilia, inizia la collaborazione tra il Museo Regionale Riso e la Fondazione Orestia di Digibellina, resa possibile dalla disponibilità dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dalla direttrice dello stesso museo, con la duplice esigenza di rafforzare l'offerta culturale nel contemporaneo e dare alla Fondazione Orestia di una presenza stabile nella città di Palermo per valorizzare la straordinaria collezione accumulata negli anni e il patrimonio di opere dei più grandi artisti contemporanei. Tra le iniziative che verranno realizzate a Palazzo Riso anche una mostra dedicata ad artisti egiziani, un incontro con Achille Bonito-Liva e l'Accademia di Belle Arti e l'Università di Palermo, la presentazione di un libro di poesia araba. Francesca Corrao, responsabile della Fondazione per la Poesia, si dichiara felice del fatto che la Fondazione abbia adesso un suo luogo di riferimento a Palermo. Era un desiderio di mio padre, aggiunge. Per lui Palermo rappresentava un importante punto di riferimento da studente, poi per il suo lavoro di avvocato e infine per la realizzazione del progetto Gibellina. L'omaggio a Ludovico Corrao è allestito in due differenti parti del Museo Riso. Al pian terreno i locali che si affacciano sull'antrio ospitano la sezione dedicata alla sua stessa storia, alla realizzazione della città nel segno del contemporaneo, con gli elementi di progettazione e architettura. In esposizione le maquette di opere celebri come la Stella di Pietro Consagra, che segna l'ingresso alla città di Gibellina, il Modello del Cretto, opera di Land Art creata da Alberto Burri, o la Chiesa Madre di forma sferica di Ludovico Quaroni. Poi i riferimenti alle opere di Iodice, Pomodoro, Mendini, Purini e Cascella. Al secondo piano la sezione di opere degli artisti che in questi anni hanno lavorato e realizzato le loro pitture, sculture e installazioni alla Fondazione Orestiadi. La Fondazione Orestiadi